Un attentato di Namitardo sarebbe stato compiuto a Palermo in via autonomia siciliana, nei pressi della fiera del Mediterraneo. Secondo le prime indicazioni della polizia, questa è la cosa più grave, ancora più grave, un magistrato sarebbe coinvolto in questo attentato. Sì, purtroppo è stata confermata la notizia con un dispaccio dell'ANSA che sta scendo in questo momento. Il giudice Borsellino è rimasto ucciso. Immagini indelebili che ci sconvolgono sempre, ci fanno tornare indietro di 29 anni. Era il 19 luglio del 1992 quando una Fiat 126 carica di esplosivo provocò la morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque uomini della scorta. Li vogliamo ricordare Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina. Ed erano passati soltanto 57 giorni dalla strage di Via D'Amelio a Capaci, costata la vita al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. E allora oggi vogliamo ricordare questi due uomini, simbolo della lotta alla mafia, due martiri, come Papa Uetila nel 1993 definì i caduti sul fronte della lotta alla mafia. Vogliamo parlare e ricordarli con Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Grazie, buongiorno, benvenuto per essere qui con noi. E in collegamento da Via D'Amelio c'è Edoardo Lucarelli. E allora iniziamo dallo studio, dal procuratore. Procuratore, dov'era quel giorno, quel 19 luglio del 92 e come lo stato d'animo, che ricordo ha? Il ricordo è che quel giorno ero a casa leggendo verbali di collaboratori di giustizia. Da poco era entrata in vigore la legge che aveva istituito il nuovo circuito giudiziario antimafia, secondo le volontà di Giovanni Falcone, le direzioni distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia. Le direzioni distrettuali antimafia avevano appunto il compito di approfondire il contrasto alle mafie e quindi portare avanti le indagini in questo campo. Ecco, l'immagine che ne ho ancora oggi è di questo uomo straordinario, una strage come quella di Via D'Amelio che seguiva di appena 57 giorni, quella di Capaci, significava un attacco allo Stato, un attacco alla democrazia dello Stato. Perché il magistrato, soprattutto quando impegnato, così come lo erano stati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, è espressione di uno dei poteri dello Stato e di quello che dà giustizia, la giurisdizione. Attaccare la giurisdizione significa voler indebolire la democrazia e quindi attaccare lo Stato. Per cui lo vidi proprio come un atto di guerra che proseguiva nei confronti dello Stato e quindi nasceva, credo, in ciascuno di noi una reazione forte, un impegno da moltiplicare, proprio per conseguire al più presto i migliori obiettivi che consentissero di indebolire le mafie, la Camorra e tutte le altre organizzazioni mafiose. Ecco, allora, procuratura, ascoltiamo assieme le parole di un altro grande magistrato, Antonino Caponnetto, pronunciate proprio la sera dopo l'attentato in via D'Amelio. Sentiamoli insieme e poi commentiamo. È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Perché è finito tutto? Perché non ne faccio dire altro. Non ne faccio dire altro. Veramente parole di sconforto. Credo che quel sacrificio massimo di questi due grandi giudici abbiano dato la spinta a molti di voi poi per lottare ancora di più, con più forza contro tutte le mafie. Certamente. Devo anche dire che Nino Caponnetto, dopo questa affermazione, ebbe a riprenderla e precisarla. In realtà era stato lo sfogo di un momento, ma voleva dire e ha voluto precisare successivamente che in realtà quel momento era l'inizio di un'ulteriore e più forte reazione dello Stato nei confronti delle mafie. E quindi doveva essere proprio il momento da cui partire perché tutti gli uffici giudiziari e le polizie giudiziarie si muovessero per raggiungere al meglio gli obiettivi di indebolimento delle mafie. Credo cosa peraltro che nel tempo si sia raggiunto. Con i grandi arresti, certo. Questi attentati hanno visto tra le vittime, lo dicevamo, lo ricordavamo in apertura, otto uomini delle scorte. Il nostro Giovanni Messina è incontrato a Palermo, Salvatore Lopresti, agente delle scorte da 30 anni, compagno di Claudio Traina, morto nella strage di Via D'Amelio. Vediamo. Nel luglio del 1991, unitamente a Claudio Traina, venimmo aggregati al reparto scorte di Palermo. Dopo l'attentato al dottore Falcone, venne assegnato un secondo dispositivo di protezione nei confronti del dottore Borsellino. E io entrai a far parte di questa squadra. Io mi ritengo un privilegiato ad avere vissuto determinate cose in quel periodo. perché entrare a contatto con una persona come il dottore Borsellino, il quale era un grande magistrato, ma innanzitutto io lo ricordo come una persona dai grandissimi principi morali, è una persona affettuosa. Persone che nei nostri confronti hanno sempre avuto un occhio, ci trattavano come se fossimo facenti parte delle loro famiglie. L'errore più grande che si possa commettere è quello di pensare che un operatore nei dispositivi di protezione non abbia paura. La paura esiste, siamo esseri umani, però deve essere trasformata in efficienza operativa. Noi che siamo sopravvissuti a quel periodo non siamo stati più bravi di loro, siamo stati solo più fortunati. Per me passare da davanti alla lapida e vedere quei nominativi scritti lì non è il semplice fatto del nominativo, del commemorato. Per me sono ricordi meravigliosi perché ricordo distintamente le voci di ognuno di quei nomi scritti lì. Tra tutti i nostri morti con Claudio sono arrivato lo stesso giorno, io all'ufficio scorta, nel luglio del 91. Sono 30 anni. Procuratore, Giovanni Falcone diceva follow the money, segui i soldi nella sua strategia di contrasto alle mafie ed anche Borsellino ha ottenuto grandi successi proprio seguendo questo metodo. Ecco, noi abbiamo avuto più volte dei confronti su quanto le mafie oggi, soprattutto dei colletti bianchi, investano ingenti quantità di denaro, miliardi di euro all'estero. Questo metodo di lavoro che ci hanno insegnato questi grandi giudici è ancora utilizzabile oggi e quali sono gli strumenti per contrastare le mafie non solo in Italia ma anche all'estero? Ma oggi è ancora di più valido quello strumento. Il contrasto alle mafie attraverso le indagini patrimoniali, bancarie, societarie, finanziarie, tributarie, rappresentano il sistema attraverso il quale addivenire all'individuazione delle mafie infiltrate nell'economia. Oggi le mafie sono infatti mafie degli affari. Hanno abbandonato quella strategia di una volta, la strategia della violenza. E soprattutto dopo il contrasto enorme che lo Stato ha portato avanti dopo il periodo stragista, non solo la strage di Capaci, quella di Via D'Amelio, ma anche le stragi continentali di Roma, Firenze, Milano, ecco lo Stato ha reagito al punto da poter arrestare tutti i vertici di Cosa Nostra e individuare anche le proiezioni nell'economia, i collegamenti con la politica, c'è ancora però tanto da fare. Ma da quel momento le mafie hanno cambiato totalmente le strategie e quindi si sono andate a infiltrare sempre più nell'economia. Ecco, lo strumento patrimoniale, lo strumento degli accertamenti finanziari, societari, tributari, come dicevo, è fondamentale ed è quello che oggi si segue. Ma peraltro ci sono tante metodologie, peraltro abbiamo un sistema delle segnalazioni per operazioni sospette portate all'UIF con l'intervento anche delle dogane, della Direzione Nazionale, del Nucleo Speciale di Polizia Valutare e della DIA che costituiscono già degli indicatori generali di grande importanza che vengono approfonditi, non solo ma gli accertamenti che si fanno sulle società anche attraverso il Consiglio Notarile, la capacità che vi è di individuare le variazioni societarie e quindi da quelle variazioni societarie individuare eventuali infiltrazioni, individuare i settori nei quali le mafie si infiltrano più facilmente. Peraltro le mafie diventano specialiste in determinati settori soprattutto perché le emergenze del passato hanno consentito di infiltrarsi e costituire delle imprese specializzate laddove vi è le necessità. Come l'emergenza Covid purtroppo in questo periodo al quale bisogna tenere l'attenzione molto alta. Allora andiamo a Palermo proprio in Via D'Amelio con Edoardo Lucarelli. Edoardo presentaci il tuo ospite. Buongiorno davanti all'albero della pace qui a Via D'Amelio dove è avvenuta la terribile strage di 29 anni fa. Siamo in compagnia di Vittorio Teresi, magistrato, presidente del Centro Studi Paolo Errita Borsellino. Lei ha conosciuto Paolo Borsellino. Qual è il suo ricordo della persona, dell'uomo? L'ultimo ricordo di Paolo è del 18 luglio del 92. La mattina dalle 9 ero nella sua stanza a parlare di un rapporto giudiziario per un omicidio che seguivamo insieme come indagini. Siamo rimasti a parlare di lavoro fino all'una circa. Io poi sono rientrato nella mia stanza e lui prima di andare via è ripassato a salutare. Tra l'altro il percorso non era un percorso obbligato. Lui per uscire dall'ufficio faceva un'altra strada, un altro corridoio. Invece passato appositamente a salutare cercava anche altri colleghi. Cosa che l'hanno mai fatto prima. So che ha cercato anche Leonardo Guarnotta, Antonio Ingroia e che invece erano assenti. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati e io mi sono chiesto come mai. E poi l'indomani quella esplosione. Questo è l'ultimo ricordo di Paolo, persona spiritosa con la quale era piacevole lavorare perché c'erano comunque sempre intermezzi di leggerezza perché non si prendeva mai troppo sul serio. Questo è stato un insegnamento molto importante. Ecco dottore, rapidamente il centro studi fa tanto, no? Proprio per diffondere, per continuare nel percorso che Paolo aveva iniziato. Lui diceva noi arresteremo i padri ma voi educate i figli. Lì tra l'altro a proposito del centro c'è anche la bibliolapa, no? Che è un pochino una biblioteca itinerante. Che messaggio diffonde e che cosa diffonde il centro in questo senso? Beh, è un po' quello che Paolo ha sempre detto. Bisogna educare i ragazzi perché il movimento antimafia deve partire da loro. Allora, per un'idea di sua sorella Rita, siamo riusciti a far realizzare, grazie al contributo degli amici della Valcamonica, questa bibliolapa. E quindi una biblioteca itinerante che va per le scuole e diffonde un po' il messaggio che Paolo con grande tenacia continuava a mandare a tutti gli studenti d'Italia, girando per le scuole, scrivendo, parlando con i ragazzi. Ecco, noi cerchiamo di parlare ancora con i ragazzi di quelle stesse cose e cerchiamo di avvicinarli alla lettura, alla lettura di qualità, alla consapevolezza dei fatti che sono accaduti in quegli anni. Grazie Presidente. Salutiamo il Presidente e andiamo un attimo a raggiungere gli ospiti. Studio. Procuratore, è sempre meraviglioso vedere queste iniziative. Rita Borsellino sarebbe entusiasta di questa iniziativa dell'Ape, ma la verità giudiziaria ancora è lontana dall'essere chiarita del tutto. Quali tasselli mancano ancora per capire cosa avvenne veramente in Via D'Amelio? Beh, devo innanzitutto sottolineare come negli ultimi anni ci sia una condivisione fra le procure distrettuali che si occupano delle stragi, quindi procura di Caltanissetta, procura di Firenze, ma anche la procura di Palermo, quella di Catania, quella di Reggio Calabria. E questo determina una condivisione di tutte le informazioni che è lo strumento che vuole il circuito giudiziario antimafia. Cosa occorre? Occorre ancora tanto. La fiammetta Borsellino ripetutamente sottolinea quanto sia importante approfondire tanti aspetti che ancora oggi non sono chiari. E lo dobbiamo alla famiglia. A partire dalla famosa agenda rossa, quella borsa che viene presa, poi viene rimessa in autovettura, viene presa nuovamente, e che Arnaldola Barbera restituisce alla famiglia Borsellino senza l'agenda rossa. Dopo però aver detto che quella borsa era andata distrutta. La presenza di appartenenti ai servizi sul luogo della strage. Via via la presenza di tanti soggetti. L'ulteriore intervento che c'è stato col famoso depistaggio scarantino. Un depistaggio di Stato, si dice. Un depistaggio che determina una sorta di arresto delle indagini effettive che avviengono soltanto, devo dire, in un momento successivo, laddove vi è Gaspare Spatuzza che inizia a collaborare e smentisce totalmente scarantino. E questo è stato uno dei momenti più gravi. Attualmente a Caltanissetta si sta svolgendo il processo nei confronti dei tre funzionari che insieme ad Arnaldola Barbera avevano trattato scarantino. Ma anche quello non basta. Si sta operando una ricostruzione perfetta dei momenti che hanno accompagnato gli accertamenti immediati alla strage. Quindi la presenza dei soggetti sul posto e quindi l'alternarsi e gli avvicinamenti che ci sono stati attraverso una ricostruzione di immagine per immagine anche avvalendosi dell'individuazione e dell'orario preciso attraverso addirittura il tramonto del sole e quindi via via lo spostamento del sole che consente di capire a che ora avvengono determinati spostamenti e quando si interviene sulla borsa di Borsellino e sull'agenda rossa. Allora io direi di tornare a Palermo e di riaprire il collegamento con Palermo e di... ecco, Edoardo, a te. Sì, rapidamente Barbara, allora anzitutto con Lucia Sorce, dirigente dell'Istituto Rita Borsellino di Palermo che ci ha portato una chicca, la possiamo vedere? Eccoci. Questo è il registo di classe di Paolo Borsellino che riguarda Paolo, Rita. Questo lo possiamo vedere, è un po' un cimelio insomma, in questo senso i voti, voglio dire, si commentano da soli 9-10, era uno studente modello ma il messaggio che ha lasciato gli studenti è altrettanto importante, no? Sì, è assolutamente importante. Noi sentiamo molto forte la responsabilità di aver avuto come alunni Paolo, Rita e Salvatore Borsellino e abbiamo dedicato la scuola a Rita perché è stata molto molto vicina alla nostra scuola, al nostro territorio e cerchiamo di fare della legalità una pratica di vita, di azione quotidiana praticamente. Tra l'altro ecco, vado rapidissimamente da Giusi Aprile che dirige l'Istituto Archimede di Siracusa in chiusura, un flash, quanto è importante la vostra responsabilità per veicolare questo messaggio di Borsellino nei confronti dei giovani? Allora, l'educazione alla legalità rappresenta l'incarnazione di quello che è stato il rigore morale di Paolo del sacrificio suo e degli agenti della sua scorta di Agostino, di Emanuela, Walter, di Vincenzo e di tutti coloro che hanno pagato con la vita questo prezzo io appartengo a quella generazione dei ragazzi che si è formata a partire da questo luogo della memoria e da lì sono rimasta colpita Grazie a voi, grazie a voi Questo è il messaggio, d'altronde lo ricordiamo, Borsellino diceva noi arresteremo i padri, voi educate i figli e questo è il grande insegnamento, la grande eredità Grazie, ringraziamo Federico Caffiero De Rao, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per essere stato con noi e tutta la giornata anche la RAI dedicherà altri spazi di approfondimento per il ricordo di Borsellino